Luca Magnino abbiamo fatto più occasioni nelle quali potevamo concretizzare meglio, dovevamo essere più cattivi sotto porta, ancora una volta abbiamo fatto un gran primo tempo, poi il secondo tempo è arrivata un po' la stanchezza, siamo calati, abbiamo subito qualcosa in più, però anche lì abbiamo creato occasioni e poi purtroppo non siamo riusciti a concretizzare, però ci prendiamo questo punto e tra tre giorni c'è già un'altra partita e dobbiamo già cominciare a pensare a domenica e al mestre. Per te è un debutto dal primo minuto in campionato, stai trovando tanto spazio in questo avvio di stagione, sei contento, è sicuramente parte della tua crescita in questo senso? Sì, sono molto contento della possibilità che mi ha dato oggi il mister e sinceramente volevo ripagarla meglio facendo qualcosa in più, non è stata una partita facile, comunque sono soddisfatto fino adesso e cercherò di continuare a lavorare in questo modo per continuare a ritagliarmi uno spazio importante per aiutare la squadra.